Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il lanciere, lo vedete sullo sfondo, abbiamo l'album della Champions League marcato Tops 2021-2022, abbiamo anche un pacco quindi sicuramente qualcosa di inerente a quest'album, ce l'andremo ad aprire insieme. Prima di partire con l'unboxing però come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le novità che andrò a pubblicare sul canale e soprattutto schiacciate un bel like al video. Detto questo siamo pronti, ci andiamo ad aprire questo pacchetto, allora mi è arrivato direttamente da Tops ovviamente, Tops Germania, facciamo un po' di spazio così non roviniamo l'album, allora iniziamo a intravederlo, vediamo un poco che cosa c'è in questo pack ed eccoci qua. Partiamo con l'album della Tops UEFA Nations League Road to Finals, eccolo qui. Ragazzi perché ho acquistato quest'album anche se già l'ho in collezione e soprattutto già lo sto riempendo con le figurine? Perché questo è l'album versione tedesca, lo vediamo qui, c'è Kai Havertz con la non maglietta della Germania, cioè con la maglietta tutta nera, quindi l'album è una versione differente rispetto alla nostra uscita in Italia. Beh questo è nel suo starter pack, costo 4,99€, noi lo mettiamo da parte. Poi ho acquistato un multipack, anche questo non so, poi magari lo apriremo insieme, 4,99€, non è presente nelle edicole italiane, io allora lo sono andato a comprare sul sito Tops Germania. Poi andando avanti ci sono l'aggiornamento 4 della live che andremo ad attaccare insieme sull'album, ne ho presi due, così come ho recuperato un vecchio aggiornamento, è l'aggiornamento 2 che mi mancava da tenere in doppia copia. Per terminare, eccoci qui un'altra busta, andiamo a vedere insieme, ci sono un po' di figurine che mi permettono di terminare il mio album Champions League, in più ho preso qualche altra figurina per la mia seconda raccolta, per la seconda e la terza raccolta. Ovviamente ho preso anche figurine di giocatori importanti, ci sono Erling Haaland, Karim Benzema, abbiamo visto, eccolo qua, Cristiano Ronaldo, poi insomma altre figurine semplicemente che mi mancavano per le mie raccolte. Allora, eccoci qua col nostro album, questo sarà praticamente il penultimo video perché intanto aspettiamo l'ultimo aggiornamento, cioè le figurine live 5, quelle della finale di Champions League, e intanto ci andiamo a guardare quest'album completo, cioè mancano in questa versione due figurine che ho e che ce le andremo ad attaccare insieme. Allora, vediamo un po' il City, ed eccola qui la prima figurina che mi manca, è ovviamente Torres, Ferran Torres, la numero 74, ce le andiamo ad attaccare insieme. Finito il Manchester City, la prossima figurina è la numero 530, ovviamente oltre alle figurine live. Tutto il resto è completato, dovrebbe essere. Controlliamo perché non era semplicissimo, alcune squadre difficilmente si riuscivano a riconoscere le figurine mancanti da quelle che c'erano perché i colori erano veramente molto simili. Mi ha visto il Milan, lo Sporting completo, il Borussia Dortmund, l'ultima figurina di Haaland in maglia giallo-nera. Abbiamo il Becittas completo, l'Inter, il Real, campione d'Europa, lo Shakhtar. Qua abbiamo la sezione dedicata alle figurine live. Qua ci sono i primi tre pack attaccati e adesso andiamo ad attaccarci insieme il quarto. Allora, non sono tagliate proprio benissimo queste quadrotte. Abbiamo attaccato le figurine di Manchester City Atletico 1-0 e Benfica Liverpool 1-3. Queste sono le figurine dei quarti di finale. Andiamo avanti con Chelsea Real Madrid, la numero 69. Resta un po' di spazio sopra perché sono tagliate un po' corte queste, della parte superiore della quadrotta. Sono quattro i fogli quadrotte presenti in questo aggiornamento. Iniziamo le quattro figurine della terza quadrotta. Passiamo all'ultima. Questi sono i quarti di finale, andate e ritorno. Ed eccoci qua. Abbiamo attaccato fino alla figurina 80, quindi siamo partiti dalla 65 all'80. Ci manca l'ultimo aggiornamento con le semifinali e le figurine della finale, quindi dal numero L81 alla L104. Noi intanto andiamo avanti. Abbiamo visto lo Shakhtar, c'è lo Sheriff, poi ci sono le otto figurine Card Limited Edition, il Bayern di Monaco completo, il Barcellona, il Benfica, la Dinamo Kiev, il Villareal, Manchester United, poi abbiamo l'Atalanta, completa anche questa, lo Young Boys, il Lille, il Sevilla. Ed ecco qua la figurina che ci manca, 530. Vedete ragazzi, non è semplice da individuare, perché i colori sono veramente molto simili. Andiamoci ad attaccare Suso, ex Milan. E con questa l'album, diciamo la versione base, è terminata. Mancano le ultime figurine live, che usciranno a brevissimo. A terminare finalmente questa collezione lunghissima, uscita ormai diversi mesi fa, più di otto mesi fa. Devono uscire le ultime figurine e finalmente la chiudiamo anche noi. Ultima squadra, il Malmo. A terminare quest'album, le due figurine, di cui una era soltanto adesiva, l'altra era prestampata, con la squadra vincitrice della Champions League 2021 edizione femminile, il Barcellona. Qui abbiamo la top scorer, la Frank Kirby, insieme a Jennifer Hermoso. Ragazzi, questo è il mio album Champions League della Tops 2021-2022. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!